C'è però Capitan Bruscolotti sull'argomento, perché la nazionale italiana avrebbe bisogno... Ma io partirei dalle ultime cose che ha detto Rino e pure tuo padre. Qui il discorso è alla base, ma la federazione deve intervenire, incentivando anche le società, non dico obbligandole però, a mantenere un certo numero di ragazzi che possono avere una crescita e un inserimento per la nazionale. E chiaramente se il numero si riduce man mano, anche nel settore giovanile, ma signore, ma la cosa è ben chiara, è chiara, si legge che poi alla fine ci troviamo, che vediamo gente nazionale, ma chi è? C'è gente mai vista? Ma l'Italia quando ha avuto sta gente? Io mi ricordo da piccolo che le squadre erano sempre fatte da blocchi di giocatori di squadre, ma erano fiori giocatori come diceva tuo padre. Lì io ho combattuto per tutta l'intera carriera, ma non sono riuscito, perché trovavo un muro davanti, ma c'era gente di spessore, di valore. Ma lì erano scelte ben precise, ma oggi vanno raccattando gente dappertutto. Allora cosa possiamo fare? Qua non ci rimane altro che trovare la soluzione solo in quello, di cercare di dare un certo numero di ragazzi che possono ambire, possono arrivare alla Serie A. Se non arrivano tutti, la nazionale notte sarà come Malta e le altre...